Inizia il countdown che porterà il Pescara al giorno del Raduno, domenica prossima 14 luglio. La squadra che rientrerà alla spicciolata in questa settimana partirà poi la mattina alla volta di Palena, che sarà anche quest'anno la sede del ritiro precampionato. Il Pescara doveva iniziare i lavori a Lucoli, ma il maltempo di maggio ha impedito che impianti e strutture del centro aquilano fossero pronti in tempo utile. E allora, per non correre rischi, la squadra torna nel piccolo centro del comprensorio Sangro Aventino, dove si allenerà per circa 10 giorni prima di trasferirsi a Lucoli. Il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti consegneranno al tecnico Zauri un Pescara quasi al completo. Il mercato è lungo e c'è la volontà di cogliere occasioni importanti nel mese di agosto, magari anche in prossimità della chiusura, quando le pretese dei giocatori più costosi si abbasseranno e si potranno fare i migliori affari. Le operazioni prossime a essere completate sono quelle del centrocampista Massimiliano Busellato, Mezzala a tutto fare in uscita dal Foggia, e del centravanti Marco Tuminello, che arriva in prestito dall'Atalanta. Il giocatore fu vagliato anche a gennaio, ma poi scelse Lecce. Con il club aerobico la partnership è sempre forte, visto che arriveranno anche i centrocampisti Filippo Melegoni, un ritorno, Willy Brasiano Tabì e il portiere Lorenzo Avogadri, che sarà dirottato alla primavera. Senza dimenticare la presenza del difensore Davide Bettella, che ha altri 12 mesi di prestito. La novità dell'ultima ora è l'accordo trovato con il 26enne centrocampista centrale bulgaro Ivailo Chocev, regista di buona tecnica e gran fisicità. Chocev è in uscita dal Palermo e usufruirà dello svincolo d'ufficio, una volta che sarà ratificata l'esclusione della società rosa-nero dalla Serie B. Sul fronte difesa, nelle ultime ore sta tornando in auge il nome del terzino sinistro Nicola Falasco, anche egli già sondato lo scorso gennaio. Sul giocatore, che rappresenterebbe l'alternativa a Del Grosso, c'è anche il forte interesse della Virtus Sentella. Al momento i reparti di difesa e centrocampo sono muniti. Nel settore difensivo vanno computati anche per rotta, almeno fino a quando il Bari non affonderà il colpo, e Campagnaro. Centrocampo ricchissimo, specie se oltre Bussellato e Chocev dovesse arrivare anche Palmiero dal Napoli. Resta più che mai sospesa la situazione Brugman, che può essere una potenziale uscita, solo a fronte di una importante offerta, così come una potenziale uscita può essere anche Frank Canutè, sempre rimasto nei radar del Parma. Il reparto meno fornito è l'attacco, dove ci sono il Primavera Borrelli, l'esterno Marras, che però potrebbe andare via, e i nuovi innesti Cisco e Galano. Si spera nel ritorno di Sottil, che nel frattempo ha iniziato la preparazione con la Fiorentina, ma è chiaro che le grandi aspettative sono legate al nome del centroavanti. Due o forse tre colpi sono necessari, come ha confermato ai nostri microfoni il direttore sportivo Giorgio Repetto.